La Fondazione Carispac ha presentato due iniziative di grande rilievo per la promozione turistica della provincia dell'Aquila. La seconda edizione del bando turismo esperienziale, un'opportunità unica per valorizzare il ricco patrimonio culturale del territorio. Grazie a questo bando le associazioni e gli enti locali potranno organizzare visite guidate gratuite alla scoperta di oltre 120 beni culturali, spesso meno noti al grande pubblico. Un calendario unico riunirà tutte le proposte offrendo ai visitatori un'esperienza completa. Tra le novità di questa edizione c'è il coinvolgimento delle persone con disabilità. Oltre al bando normale che facciamo per i progetti abbiamo l'anno scorso fatto un bando che riguarda il turismo esperienziale. Ha avuto un grande successo di partecipazione e di svolgimento dei progetti. È necessario che noi si insista su questo progetto e quest'anno l'abbiamo riproposto e ci abbiamo già diverse domande e sicuramente sarà uno dei progetti che simile a quello dell'anno scorso farà venire fuori delle potenzialità. E poi l'edizione del premio turismo d'eccellenza, un riconoscimento per le imprese e gli operatori del settore che si distingono per l'innovazione e la qualità dei loro servizi attraverso un percorso di performance coaching. I vincitori avranno l'opportunità di migliorare ulteriormente la propria offerta e di rafforzare la competitività del turismo aquilano. Questo è vero ed è importante tanto più alla luce del cammino che stiamo facendo verso l'Aquila capitale della cultura 2026. Questo però rafforza anche la governance sul turismo che fanno gli enti locali perché significa che c'è un substrato imprenditoriale di associazioni e non solo che sa lavorare bene così tutti insieme possiamo lavorare. L'emozione della scoperta è il filo conduttore delle iniziative presentate oggi. La fondazione Carispa che infatti crede fermamente nel potere della cultura per rilanciare il territorio e creare nuove opportunità di sviluppo. Le visite guidate, i percorsi tematici e le attività didattiche faranno riscoprire ai visitatori la bellezza e la storia della provincia dell'Aquila stimolando un turismo più consapevole e sostenibile.